Buonasera da Ultimati G, apriamo il nostro telegiornale parlando di cronaca con un fatto che è successo circa un'ora fa a Palermo, esattamente in via Pirandello, la strada che collega Ficarazzi a Villabate. Un uomo è stato trovato senza vita, si presume, si tratti di omicidio, in questo momento ci sono i carabinieri che stanno compiendo alcuni rilievi. Sul posto ci sono le nostre Manuela Zum e Marcella Chirchio, la nostra inviata è Manuela Zum. Manuela, buonasera, dacci i primi dettagli. Sì, buonasera direttore, non si tratterebbe, sembrerebbe di un omicidio, la morte di un uomo di 61 anni dopo una lite a Ficarazzi, una lite scoppiata per futi motivi ma finita in tragedia. L'uomo è morto oggi, nel sardo pomeriggio di oggi, in via Pirandello, Vito D'Alcamo, 61 anni, questo il nome della vissima. Stando alle prime informazioni raccolte qui sul posto, sembra che Vito D'Alcamo sia intervenuto in strada per scopiare una lite scoppiata tra vicini di casa. Sembrerebbe che proprio in questa lite sarebbe stato coinvolto il genero dell'uomo. L'episodio si è verificato appunto intorno alle 18. da quello che si apprende inizialmente, D'Alcamo si trovava a bordo della sua auto sull'uscio del garage di casa, ha notato queste persone che stavano discutendo animatamente in strada, tra cui il genero, e sarebbe intervenuto per forzare la pace. Avrebbe detto parliamo con la bocca. A quel punto la situazione sarebbe poi precipitata. Un testimone ha visto che all'introvviso ha dichiarato proprio te soli parole. Si sono rigirati gli occhi e l'uomo è caduto per terra sbattendo la testa, la nuca, violentemente sul marciapiede. In questo momento sul posto i carabinieri della compagnia di bagheria, la polizia scientifica, il medico legale, il cadavere tra l'altro si trova ancora qui per tutti i rilievi del caso. Al momento comunque sembrerebbe che non si tratti di omicidio. Indagini comunque sono tuttora in corso. Tra l'altro alcuni carabinieri stavano sentendo proprio in questi minuti i vicini di casa che avrebbero assistito praticamente a questa luita. Benissimo, grazie. Non ci sono altre domande? No, va bene così, Manuela. Grazie. Naturalmente poi daremo ai nostri telespettatori gli aggiornamenti. Grazie, Manuela. Grazie a Zoom da Palermo. Noi continuiamo il nostro telegiornale, cambiamo decisamente argomento, facciamo un passo indietro e parliamo di altri problemi certamente più gestibili, se vogliamo, che sono comunque di casa nostra e si riferiscono alla conferenza stampa che questa mattina ha tenuto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, ha parlato di economia, ha parlato di bilancio ma soprattutto ha trattato i temi della emergenza, rifiuti e un altro tema annoso che continuiamo a portarci dietro che è quello delle ex province, il servizio. Si torna a parlare di rifiuti e dell'emergenza con il presidente Nello Musumeci dopo che ha chiesto al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale per Bello Lampo e per intervenire sui comuni inadempienti sulla differenziata. Il problema dei problemi, come già annunciato, è Bello Lampo. Per la settima vasca ci vogliono dai sei ai sette mesi ma con i poteri straordinari i tempi di realizzazione si potrebbero accorciare, motivo per cui nelle scorse settimane i cancelli della discarica sono rimasti chiusi per decine di comuni della provincia. Bisogna intervenire subito, ha ribadito anche oggi Musumeci, questa situazione non può essere affrontata con strumenti ordinari. Serve riformare il sistema delle società di regolamentazione dei rifiuti, su questo Musumeci è stato chiaro, su 18 SRR solo tre sono attive. Basta con enti che giocano con il denaro pubblico e non producono il risultato. Ritorno a parlare poi della competenza dei rifiuti che deve andare secondo il Presidente alle province. Devono esserci nove riferimenti, così facendo la Regione verrebbe sollevata dal ruolo di gestione del rifiuto che la normativa non le consentirebbe. Verranno avviate ispezioni negli ex auto e individuati nuovi commessari ad acta. Entro aprile avremo una nuova legge sui rifiuti, promette il Presidente che conferisce maggiori poteri agli enti locali. Avremo nove interlocutori e non 33 come avviene in questo momento. Non soltanto per i rifiuti, ma noi riteniamo che alle province debbano essere decentrati altri poteri, per esempio quello sulla edilizia popolare, per esempio quello sulla gestione delle acque, per esempio quello della pianificazione turistica e commerciale. insomma tutte le competenze previste dalla legge 9 dell'86 e in più altre competenze che oggi sono in capo alla Regione. La Regione, non mi stanco mai di dirlo, deve smetterla di essere ente e gestore. Ma a proposito di emergenza e rifiuti, vediamo in un report quali sono i comuni virtuosi per quanto riguarda la raccolta differenziata e invece quelli che devono essere bacchettati. Una situazione drammatica. L'emergenza rifiuti in Sicilia, che dura in verità da 20 anni, è uno dei problemi più grandi del Presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha chiesto aiuto al Premier Paolo Gentiloni. Si chiede di avere poteri speciali attraverso un'ordinanza della protezione civile. Il rischio è alto e si pensa di inviare almeno 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti fuori dalla Regione, con la possibilità di un aumento dei costi che potrebbero gravare solo sui comuni meno virtuosi che non hanno raggiunto la percentuale della differenziata fissata al 65%. E la mappa dei comuni siciliani è davvero impietosa. Seppur grazie all'ufficio speciale per il monitoraggio della differenziata si sia registrato un trend positivo, a far abbassare la media in tutta la Sicilia sono i capoluoghi di Regione, con Catania passata da gennaio 2017 dall'11,5% al 9,92% e Palermo, che a gennaio del 2017 era al 15,3%, scesa al 13,62%. Una lieve crescita per Messina passata dal 10,5% al 17,11% e poi Siracusa dal 5,2% all'8,40%. Percentuali comunque troppo basse che porteranno i cittadini dei comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla legge a pagare con un aumento probabilmente sulla Tari. Intanto l'ufficio speciale per il monitoraggio della differenziata ha già diffidato alla Corte dei Conti i comuni negligenti che non hanno nemmeno consegnato i dati. E se da una parte Musumeci punta il dito sui sindaci? C'è chi afferma che sia stata proprio la Regione a non mettere i comuni in condizioni di conferire le frazioni differenziate. L'organico rappresenta il 40% dei rifiuti, afferma Giampiero Trizzino, già presidente della Commissione Ambiente all'ARS, e continua. All'attivo sono presenti solo 8 impianti per una capacità di 210 tonnellate l'anno. Se la Sicilia vuole raggiungere il 65% di raccolta differenziata deve triplicare questi valori e per farlo la Regione deve aprire nuovi impianti. Un disavanzo di quasi 6 miliardi e un indebitamento che supera gli 8 miliardi di euro. Questa è la fotografia sui conti della Regione siciliana che è stata presentata oggi proprio dal governatore insieme all'assessore regionale all'economia Gaetano Armau. Sentiamo. Conti della Regione inizia l'operazione verità del governo di Nello Musumeci che stamattina ha convocato la stampa insieme all'assessore all'economia Gaetano Armau per fare il quadro dello stato di salute dei conti della Regione Sicilia. Una salute che vacilla, ci muoviamo su un terreno minato. Esordisce così il presidente che subito passa ai numeri. La regione che ha trovato è una regione con un disavanzo da 5 miliardi e 900 milioni di euro e con un indebitamento di oltre 8 miliardi. Una situazione che non può più andare avanti. Negli anni, ha detto il presidente, si è andati avanti alla giornata. Adesso occorre un intervento di risanamento strutturale dei conti per il quale ci vorranno almeno tre anni. Al primo posto, come ribadito anche dall'assessore al ramo Gaetano Armau, c'è il dialogo con il governo nazionale con il quale rinegoziare gli accordi precedenti. L'obiettivo primario per Armau è la riduzione della spesa e del debito pubblico. I primi interventi annunciati riguarderanno il contrasto all'evasione, la revisione degli accordi tra Stato e Regione e il miglioramento delle performance dei tributi. Una nuova versione dell'autonomia siciliana annuncia Armau con conti e carte in regola. Con la Corte Conti c'è la massima intesa e collaborazione in tutto questo iter di revisione della spesa, ma soprattutto sulla indicazione di un gettito che garantisca ai siciliani il diritto all'innovazione, di un gettito che garantisca alla Sicilia di poter offrire i servizi ai cittadini che i cittadini meritano per non essere cittadini seri. Il passo sui investimenti è totalmente impregiudicato, quello che deriva sia dai fondi europei che dal patto per la Sicilia, quindi su questo l'importante è per esempio disancorare dai tetti sulla spesa il cofinanziamento di questi investimenti, perché è necessario che la macchina di spinta sugli investimenti lavori a massimo regime e non possa essere tarpata da tetti sulla spesa che sono inaccettabili, che il precedente governo ha negoziato e che noi intendiamo modificare. C'è però una spada di Damocle che in questo momento poggia sulla testa di Nello Musumeci e della sua giunta e si riferisce al ricorso presentato alla Tar da parte di Busalacchi, leader del movimento I Nuovi Vespri, che in conferenza stampa questa mattina ha spiegato che potrebbero esserci tutte le ragioni per invalidare le elezioni del 5 novembre. È un ricorso perché Musumeci non deve stare dove sta, l'elezione di Musumeci è illegittima. Franco Busalacchi, leader del movimento I Nuovi Vespri, non ha dubbi, le irregolarità delle liste delle elezioni del 5 novembre scorso sono tali da invalidare il voto. In conferenza stampa a Palermo ha spiegato insieme all'avvocato Lillo Massimiliano Musso le motivazioni che lo hanno spinto a presentare il ricorso al Tar. L'illegittimità della posizione musumeci nasce dalle stesse indicazioni che il Tar ha dato per impedire alla mia lista di partecipare alle elezioni. E cioè le irregolarità puramente formali che il Tar ha definito insanabili perché il nostro meccanismo elettorale è rigido e non può subire modificazioni. Sono nulla al confronto delle illegittimità, dell'irregolarità, delle illegalità che sono state commesse nella compilazione e presentazione delle liste. Ci sono persone che sono attrezzate al vernaviglio e sono nello stesso tempo presenti ad agrigento. Il che mi pare che non sia soltanto una illegalità formale ma un falso ideologico e documentale. Il leader dei nuovi Vespri parla di falsi documentali facendo riferimento a documenti mancanti, firme non autenticate e accettazioni di candidature modificate con il correttore, ha detto. Sono gli elementi che fanno cadere, come le matriosche, le liste. Cade un candidato, cade una lista, cadendo una lista ne cadono altre, cade il quorum, tutti a casa. Ci trasferiamo a Catania esattamente nel quartiere di Librino, in Viale Grimaldi, perché proprio ieri un autobus dell'azienda metropolitana Trasporti è stato oggetto di un colpo di fucile, quindi un proiettile che ha colpito un vetro. Fortunatamente illesi il conducente è un ragazzo di 19 anni che si trovava all'interno del mezzo. Noi abbiamo sentito questo pomeriggio il presidente di AMT Puccio Larosa che ha chiaramente denunciato il fatto, definendolo gravissimo. Quanto è accaduto è un fatto di una gravità estrema, non si è trattato di una pistola ma di un fucile che ha sparato lungo l'autobus che camminava su Viale Grimaldi. Un episodio che per fortuna ha determinato soltanto la rottura di un vetro della nostra vettura ma che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Basti pensare che il lato colpito era vicinissimo all'abitacolo dove operano i nostri conducenti. E' per questo che stamani insieme al sindaco abbiamo ritenuto di dover contattare il prefetto della città per chiedere la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si occupi di trattare l'argomento e si occupi di una questione che non può più essere sottaciuta quella della sicurezza del trasporto pubblico locale e soprattutto dei suoi lavoratori. E lo diciamo anche perché in questi mesi abbiamo lavorato per recuperare l'efficienza dei nostri mezzi. Lo abbiamo fatto grazie anche agli sforzi dei lavoratori e degli autisti in primis ed è veramente triste pensare che qualche balordo con un gesto vigliacco e eccessivo e che non può che essere definito nei termini più negativi possibili abbia messo a repentaglio non soltanto la vita dei conducenti e dei trasportati ma abbia anche rischiato di determinare una vera e propria tragedia. L'unico modo per poter fermare questa barbaria della violenza che ormai dilaga in ogni forma nel nostro territorio è la rivolta delle persone per bene che reagiscono e che denunciano segnalando questi episodi. Spesso il cittadino per bene si gira dall'altra parte. Se si è per bene non è possibile girarsi dall'altra parte ecco perché auspichiamo che ci sia una presa forte di coscienza di tutti su questi episodi di cui oggi stiamo parlando. C'è un'allarme sicurezza nel quartiere Fossa Creta di Catania tra vie che sprofondano i rifiuti, i cumuli di rifiuti ed enormi incompiute. C'è un appello da parte dei residenti rivolto all'amministrazione non lasciateci soli. Il rione Fossa Creta di Catania invasso dalla spazzatura è sotto costante scacco da rischio idrogeologico. Gli abitanti lanciano l'allarme e chiedono interventi urgenti a cominciare proprio da via Fondo Romeo la strada che collega le tante aziende del rione al resto di Catania. Il problema è che facendosi un giro nel quartiere si vede che ci sono migliaia di alberi e che non sono mai potati che non ci sono stati interventi di manutenzione che si dovrebbe essere quotidianamente. Ricordiamo bene che c'è stata anche la vicenda degli zingari qualche anno fa che c'è stato l'incendio. Noi chiediamo all'amministrazione non solo di fare chiacchiere ma di fare fatti. Allora gli interventi che si devono fare immediatamente la videosorveglianza per quanto riguarda la zona per i rifiuti. Il rischio telegeologico che se ne è parlato si parla di migliaia di euro che ci sono per il rischio telegeologico ma qua non sta succedendo nulla. E un'altra cosa che mi preme dire e che sollecito al più presto con l'interrogazione all'amministrazione è per quanto riguarda tutti questi alberi perché basta che ci sia un incendio ci siano problemi seri per i cittadini e anche per la viabilità. Considerate che questo è un quartiere principale della città è un nodo dove c'è San Giorgio, Librino, Prima Municipalità quindi è molto trafficata quotidianamente e tra l'altro c'è anche il cimitero qui vicino. Oggi muoversi tra queste zone è diventato un'impresa e c'è paura per una nuova calamità già praticamente annunciata. Alcuni hanno anche mandato segnalazione alla prefettura per chiedere di ripulire l'area e proteggerla da simili pericoli. Sicuramente non si può pensare solo a una parte della zona di Catania. Ritengo che questi soldi che dicono l'amministrazione ancora non abbiamo visto niente, sono solo proclami. Ricordo bene anche il fatto di alcuni interventi che si dovrebbero fare. Noi sollecitiamo l'amministrazione di fare degli interventi e speriamo che pensano a tutta la città ma non solo a una parte. Riaperta a distanza di 37 anni l'inchiesta da parte della direzione distrittuale antimafia di Palermo l'inchiesta sull'omicidio di Persanti Mattarella l'ex presidente della regione siciliana e fratello dell'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella è l'assassinato nel giorno dell'Epifania nel 1980 a Palermo da sicari rimasti senza nome. Ci sarebbero nuovi approfondimenti. C'è un filo che lega i delitti del presidente Persanti Mattarella del giudice Mario Amato e la strage di Bologna. Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'esplosione alla stazione bolognese, deputato del PD. In quelle 1980, dice, i killer neri erano legati alla P2 ed ambienti deviati dei servizi segreti. In un rapporto del giudice Loris D'Ambrosio del 1989 che indicava una pista precisa da seguire, afferma Bolognesi, c'erano i preziosi spunti di indagine che non sono stati mai approfonditi e è venuto il momento di farlo. E proprio sull'omicidio di Persanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana e fratello del capo dello Stato Sergio Mattarella, assassinato nel giorno dell'Epifania nel 1980 a Palermo da sicari rimasti senza nome, la DDA di Palermo ha avviato nuovi accertamenti. I nuovi approfondimenti su chi sparò prendono spunto da una targa e riaprono la pista nera già seguita da Giovanni Falcone che portò a giudizio Giuseppe Fioravanti che fu però assolto da una corte d'assise. Il killer sparò con una pistola a Mattarella e poi fuggì salendo su una Fiat 127 dove l'aspettava un complice, anche lui rimasto senza nome. In questi ultimi mesi sono apparse sempre più visibili alcune tracce che i magistrati del procuratore capo Francesco Lovoi stanno seguendo con attenzione collegando informazioni che erano state sottovalutate o scartate. Una riguarda proprio quella targa o meglio gli spezzoni di una targa ritrovati il 26 ottobre 1982, due anni e dieci mesi dopo l'omicidio di Mattarella nel Covo Nero di Torino. In un appartamento di via Monte Asolone i carabinieri trovarono due targhe tagliate. Un primo spezzone aveva la sigla PAH come Palermo e il secondo PAH 563091 sono gli stessi numeri ma composti diversamente rimasti agli assassini di Persanti Mattarella che avevano utilizzato due targhe rubate per camuffare la Fiat 127 del delitto. Una coincidenza che aspetti di stupefacente singolarità scriveva Loris D'Ambrosio, grande esperto di indagini sulla destra eversiva nel corposo dossier sul delitto Mattarella partendo proprio da quelle targhe avanzando l'ipotesi che ad uccidere il presidente della regione siciliana fossero stati proprio i neofascisti. I ministri Orlando e Franceschini afferma bolognesi avevano firmato un protocollo di intesa per creare un archivio digitale dei processi ma nulla è stato ancora realizzato. In questa veste ho chiesto ai rappresentanti dei servizi convocati in commissione i fascicoli personali dei componenti della cosiddetta Gladio Nera il nucleo di difesa dello Stato ufficialmente sciolto nel 1973. I rappresentanti dei servizi hanno detto alla commissione che ci sono problemi di privacy e che quelle schede non possono essere consegnate e la ritengo una risposta inaccettabile. Anche il celebre scrittore Tomasi di Lampedusa sarebbe rimasto vittima del suo gattopardismo infatti l'autore appunto del gattopardo la tomba del autore è versa in stato di abbandono e questo accade al cimitero dei Cappuccini di Palermo. Il servizio. Bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga come la celebre frase del gattopardo scritto da Tomasi di Lampedusa una frase ricca di paradossi che spiega il cosiddetto gattopardismo che spinge i siciliani alla pigrizia come spiegava nel romanzo il principe Fabrizio Salina un paradosso di cui è rimasto vittima per così dire lo stesso autore o meglio la sua tomba custodita all'interno del cimitero dei Cappuccini di Palermo la tomba del principe Tomasi di Lampedusa versa infatti in stato di abbandono l'elegante sepoltura a Pozzo Gentilizia si trova nell'ala appia antica del cimitero a metà strada tra la cappella dei principi alliata di Pietratagliata e il monumento dei baroni di Mandrascate ma sulla lastra di marmo dove è inciso il suo nome e quello della moglie non ci sono i fiori freschi che colorano le altre sepolture non c'è una foto o un epitaffio a ricordarne il passaggio in terra a ridosso del cancelletto Liberty che la protegge c'è infatti soltanto un mazzo di fiori secchi oggi a 60 anni dalla morte a visitare la sua lapide sono quasi esclusivamente turisti stranieri di lui chiedono molti tedeschi inglesi e soprattutto francesi ci spiega il custode che da 24 anni apre e chiude il grande portone del cimitero dove sono sepolti molti grandi della Sicilia il sindacalista Piola Torre il politico Michele Amari il magistrato Pietro Scaione e Francesco Crispi un'altra beffa che potremmo definire frutto del gattopardismo siciliano riguarda la data di morte incisa sulla lapide la data 26 luglio 1957 sarebbe sbagliata Tomasi di Lampedusa morì il 23 luglio e tumulato tre giorni dopo il 26 luglio appunto l'ultima beffa dunque che i siciliani hanno inflitto all'autore del gatto pardo da domani 6 gennaio partono i saldi invernali 2018 non tutte le associazioni di categoria la pensano nello stesso modo ecco alcuni consigli utili per fare l'acquisto al prezzo giusto da domani partono i saldi invernali un'occasione per fare incetta per sé e per i propri cari ma attenzione ai prezzi secondo Confo Consumatore Sicilia bisogna diffidare dei saldi superiori al 50% perché potrebbero essere prodotti dell'anno scorso i cartellini devono esporre la doppia cifra con il prezzo pieno e quello scontato e se il negoziante rifiuta la vostra carta di credito ricordategli che è obbligato ad accettarla in caso contrario e beh cambiate negozio conservate lo scontrino perché in caso di merce difettosa vale la garanzia legale di due anni prevista dal codice del consumo per i beni difettosi o non conformi a quanto richiesto dal consumatore ma le opinioni sugli sconti sono discordanti l'offerta dei saldi è abbastanza interessante i consumatori perché possono trovare un buon stock di merce presente nei negozi e il sistema negozi con il servizio e i consigli che dà i consumatori stessi può permettere di realizzare degli ottimi acquisti e mentre il presidente di Confo Commercio ha una visione positiva il Coda Conce invece la pensa così se si adottassero dei prezzi convenienti tutto l'anno anziché fare dei ricarichi eccessivi sulla merce probabilmente il flop che noi purtroppo prevediamo non ci sarebbe chi cerca di mettere in chiaro le cose e riportare la pace tra le posizioni è Salvo Politino direttore Confesercenti Catania che dice possiamo aprire una discussione su natura e modalità delle vendite promozionali su chi deve effettuare i controlli necessari sul rispetto del principio di trasparenza e fiducia nei rapporti con l'utente finale ma di fatto senza l'introduzione di una norma che ne regoli data e durata e che dia strumenti e libertà per far competere le nostre piccole imprese è davvero difficile di atribe a parte il fascino dell'acquisto è comunque sempre di moda sono trascorsi 34 anni dall'omicidio il barbaro omicidio del giornalista Pippo Fava oggi altre si rinnovano le celebrazioni noi ne abbiamo seguita una Simona Scandura resta ancora vivo il ricordo di Giuseppe Fava nel giorno del 34esimo anniversario dell'omicidio del giornalista e scrittore assassinato dalla mafia con 5 colpi di pistola il 5 gennaio del 1984 una giornata intensa a cui hanno preso parte molti cittadini tra gli appuntamenti più importanti quello al Teatro Verga con un incontro dibattito alla presenza di Claudio Fava durante la presentazione del film che verrà trasmesso su Rai 1 e che racconta la vita di Fava è il rapporto padre-figlio che prende spunto dal libro scritto da Claudio Fava e Michele Gambino se da una parte il comune di Catania anche quest'anno ha donato uno strumento musicale al posto della corona di fiori dall'altra non è mancata la polemica dell'onorevole Fava che ha detto come sia inspiegabile che un sindaco che si costituisce parte civile in un processo per mafia nei confronti dell'editorio e Mario Ciancio poi si presenti alla sua scrivania per rilasciare un'intervista il senso profondo di una città che sopravvive a tutto e che sopravvive al senso della licenza che potrebbe risposta a celebrarsi anche fingendo i propri furore e le proprie indignazioni poi andando a rendere omaggio col cappello in mano a chi rappresenta le ragioni di un potere che è inutabile infine in chiusura è stato consegnato il premio Fava 2018 alla memoria di Daphne Caruana Galizia la giornalista maltese uccisa probabilmente per aver dato fastidio ai boss ai comitati d'affari e alle lobby politico-mafiose una giornalista che somiglia a Pippo Fava a dimostrare che il giornalismo d'inchiesta non può e non deve morire oggi premiamo per la prima volta una donna ed è un premio alla memoria è la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia che il 16 ottobre scorso è saltata in aria mettendo in moto la macchina davanti a casa sua parliamo adesso di Carlo Verdone della sua benedetta follia l'ultimo lavoro che uscirà presto nelle sale cinematografiche è stato presentato oggi a Palermo in anteprima Carlo Verdone torna al cinema con una nuova divertente commedia il 26esimo film nel quale il regista è protagonista presentato in anteprima a Palermo benedetta follia il film che segue le vicende di Guglielmo interpretato da Verdone uomo di specchiata virtù e fede cristiana proprietario di un negozio di articoli religiosi i suoi valori crollano all'improvviso quando sua moglie lo abbandona dopo 25 anni di matrimonio proprio nel giorno del loro anniversario la vita però riserva ancora qualche sorpresa allo sfortunato Guglielmo che in una giornata come tante nel suo negozio riceve la visita di un'imprevedibile candidata commessa Luna interpretata da Elenia Pastorelli una ragazza di borgata travolgente volenterosa ma altrettanto incapace e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento Luna traghetterà la bottonato datore di lavoro attraverso un mondo proibito di single allo sbaraglio fatto di appuntamenti al buio e app di incontri le vite di Guglielmo e Luna così avranno dei risvolti totalmente inaspettati perché come quelle del Signore anche le vie dell'amore sono infinite divertimento e comicità con un tocco di poesia alla fine il messaggio è che nella vita si può sempre ricominciare comicità divertimento colpi di scena amicizia senso di grande amicizia e grande e grande poesia però l'ho girato bene gli attori erano veramente in parte quindi tutto assume un carattere molto c'è un tono molto pacato pieno di affetto pieno di amore ci sono due abbracci nel film nel finale che praticamente danno un po' il senso di questa storia quindi si conclude in una maniera come se fosse una carezza per lo spettatore ecco così la vedo io forse è un film che però poi lancia un bellissimo messaggio cioè che forse l'amore è più vicino di quello che sembra io ce l'ho messa tutta ho dato a Verdone e gli ho dato guarda tutto il mio cuore tutta la mia anima tutta me stessa proprio perché me l'ha data insomma me l'ha data non dico la forza me l'ha data non siate con i doppi sensi me l'ha data la forza me l'ha data l'energia me l'ha data la dritta l'anima linea alla regia per la pubblicità ci ritroviamo subito dopo e parleremo di sport ogni giovedì alle ore 21 su Ultima TV La Maglia della Salute un programma di medicina e prevenzione con ospiti testimonianze e servizi La Maglia della Salute la medicina al servizio della gente ogni giovedì alle ore 21 su Ultima TV per contattare la redazione scrivete a Maglia della Salute chiocciola Ultima TV punto it La Maglia della Salute Un'occasione unica per sciare sulle incantevoli piste dell'Etna anzi un'occasione doppia grazie all'abbonamento per la stagione sciistica per gli impianti di risalita sui versanti di lingua glossa e nicolosi l'abbonamento stagionale può essere sottoscritto presso la partenza della funivia dell'Etna al rifugio Sapienza oppure alla partenza della seggiovia a Piano Provenzana vi aspettiamo tutti i mercoledì su Ultima TV canale 87 parleremo insieme di salute e di benessere e lo faremo insieme ai professionisti dell'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania mancano ancora due settimane per il ritorno in campo e dunque tiene banco il calciomercato vediamo come si sta muovendo il Catania che in questo momento è la ricerca di un forte centrocampista entra nel vivo la sessione invernale a bollire in pentola in questo periodo lontano dal rettangolo di gioco ci sono le trattative di mercato e in casa Catania specialmente dopo le parole dell'amministratore delegato Pietro Lomonaco ai nostri microfoni dove aveva confermato di avere già individuato i tasselli da inserire in rosa si sta lavorando per la ripresa fissata fra poco più di due settimane ancora nessun trasferimento è stato ufficializzato ma i dirigenti etnei stanno lavorando alacremente per garantire a Luccarelli il prima possibile elementi freschi mancherebbe soltanto la firma sul contratto per Giuseppe Caccavallo esterno offensivo classe 87 che andrà a infoltire l'attacco rossazzurro operazione che si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto il reparto d'attacco sarà oggetto di trattative anche e soprattutto in uscita con Zeturbo e Rossetti pronti a fare le valigie se per il primo è previsto un ritorno all'Inter prima di essere nuovamente girato in prestito per il giovane 21enne rossazzurro ci sono diversi club di Girone C interessati ad accoglierlo in prestito Fidelisandria su tutte al contrario proprio dall'Andria di ritorno Max Barisic tre i gol fin qui segnati in stagione dal classe 1995 che dunque potrebbe essere a disposizione di Lucarelli per il raduno di Torre del Grifo del prossimo 8 gennaio su Mazzarani c'è il veto del tecnico toscano richieste anche dalla serie a cadetta che dunque non verranno prese in considerazione chi invece potrebbe partire? Giorgevic l'esterno non ha mai goduto di grande spazio quest'anno e ha tante richieste per il serbo sfida Trefoggia Parma e Alessandria Stilate le cessioni sarà poi necessario pensare all'innesto di qualità e sostanza in mezzo al campo Per la mediana piace sempre Jacopo Dalloglio centrocampista di proprietà del Brescia ma di sangue siciliano profilo di corse e dinamismo trattativa non semplice ma che potrebbe decollare nel giro di qualche settimana Gli ultimi rumors sempre per il centrocampo raccontano anche di un interesse per Alessandro Mastalli giovane mediano della Juve Stabia quest'anno assegno due volte con le vespe come è possibile vedere dalle immagini La valutazione del giovane da parte del club campano scogliono di poco conto che potrebbe condizionare un'ipotetica trattativa Anche il Palermo si muove sul cacciomercato in modo circospetto perché sta cercando un forte esterno di sinistra sta cercando anche un attaccante di categorie questo perché è molto probabile che Nesto Roschi lasci Zamparini guarda venti e pensa solo alla promozione in serie A per l'istanza di fallimento presentata dalla procura c'è tempo se ne parlerà a marzo adesso conta solo il mercato Nelle prossime ore è previsto il primo incontro tra il patron del Palermo Maurizio Zamparini il direttore sportivo Fabio Lupo e il tecnico Bruno Tedino per pianificare decidere come integrare e potenziare senza intaccare gli equilibri una rosa che è già stata capace di totalizzare 39 punti nel girone d'andata Due sono al momento i profili prioritari nell'agenda dei siciliani un esterno giovane di prospettiva possibilmente mancino naturale che possa fungere da vice all'esami e un centravanti di categoria un paio di movimenti in attacco potrebbero registrarsi anche in uscita da sciogliere infatti i nodi relativi al futuro di Carlos Embalo il suo procuratore ha chiesto la cessione il Palermo ci pensa l'altro nome è quello di Gaetano Monachello l'attaccante assegnato nell'ultima partita di campionato contro la Salernitana era stato sicuro partente adesso si riflette sul suo futuro in entrata invece uno degli obiettivi resta Samuel Di Carmine cercato genestate dal club di Viale del Fante per l'attaccante classe 88 si profila però una vera e propria asta gli Umbri chiedono 2 milioni di euro il Palermo al momento ritiene la quotazione troppo alta se ne tornerà a parlare nel frattempo si attende di capire come finirà il summit tra Zamparini Lupo e Tedino da lì si deciderà il futuro del Palermo sono invece finite le vacanze per gli atleti di pallannuoto calcio a 5 e volley vediamo in questa ricca panoramica le sfide volge al termine la sosta invernale per le feste le squadre siciliane di tutti gli altri sport dal futsal alla pallannuoto torneranno in campo in basca per il primo turno del nuovo anno il 2018 si apre col botto nel campionato di serie a maschile di pallannuoto l'undicesima giornata proporrà il derby siciliano tra Ortigia e Nuoto Catania sfida tra compagini che hanno chiuso positivamente l'hanno lasciato alle spalle e intendono continuare a correre si parte domani alle ore 15 alla piscina Paolo Caldarella in pianto di casa degli Aretusei inaugureranno il nuovo anno anche le formazioni siciliane di futsal per il torneo di serie a due domani alle 16 scenderà in campo la meta a calcio a cinque che attende i pugliesi del Bisceglie per mantenere la sorprendente seconda posizione in classifica si disputerà la dodicesima giornata invece per quanto riguarda il girone meridionale di serie B per la pallavolo terza gara in sette giorni per la volle Catania di Cochirigano in serie a due gli etnei reduci dalla netta sconfitta di Roma avranno il supporto dei propri tifosi nella sfida Casalinga contro Reggio Emilia importante per dare una risposta e risollevare anche le sorti serie B riparte la caccia alla capolista con Adla Mezzia sabato alle 17.30 l'ultima tv Volley Valle affronterà la palestra Mascagni di Catania e il Cosenza per continuare la scalata in classifica impegni esterni per le altre due etnei a Gupe Volley Universal rispettivamente impegnate contro la Mezzia e Vibo Valencia e per questa sera è tutto grazie per l'attenzione vi lascio al meteo a Giuseppe De Vitis e vi auguro buona serata a Giuseppe De Vitis